La dieta mediterranea 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 entspannen La dieta mediterranea Prmas La dieta mediterranea La dieta mediterranea Ma point c'est svikut dead Si Credo che potremmo guardare le mani in cui le persone mangiano, cioè se si mangiano insieme, se si mangiano in mani, sono le mani strutture, commensali, che sono conviviali e commensali, questo tipo di cose dovrebbero essere studiato. E qui abbiamo anche differenze che sarebbero molto interessanti per essere studiati in profondo. In sintesi, cosa sta succedendo? Quali sono le evoluzioni in atto in termini di stili di consumo alimentare? Allora, ci sono due differenze visibili. I nutrizionisti pensano che le cose stanno facendo da male a da male. E le persone che noi interviamo pensano che le cose stanno facendo da male a male. Ora, ho alcuni dati recenti, da un esempio di persone francese, e è davvero straordinario, abbiamo chiamato la stessa domanda nel 2002 e nel 2011. Inoltre a voi, ci sono le mani che avevano 40 o 50 anni fa più sceglie? E la risposta è stata un'immagine, sì, erano più sceglie in 2002, qualcosa di tipo 55%, e ora è più oltre 60%. Quindi, le persone pensano che si stanno facendo da male a male, o da male a male a male. Ora, se chiamate di nutrizionisti, si chiamano di una cosa che si chiamano di nutrizionale, e la nutrizionale significa, che significa che le persone, quando si stanno facendo da poverità fino a più di prosperità, tendono a diminuire la consumazione tradizionali basata sui dolci, cereali e carboidrati, e aumentare la consumazione basata sui alimenti e fatali. E, ovviamente, questo non è considerato molto bene, che è vero. Il punto è che nessuno sembra di fare attenzione alle differenze culturali all'interno. Quindi, quello che è molto interessante, anche nella sfera mediterranea, è come come ci sono molte differenze nella prevalenza dell'obesità, anche tra i mediterranei. La Grecia, per esempio, ha la più alta BMI in Europa, e che la Francia, par Jonze, è la seconda continua a il Japan e in quanto mici esibili hanno. Non che non ci si trattiamo a seguire ciò che sono la ragazza? La raccoglione, è i contrii che i sagittori culturali essenziali con i rituali, i processi, i processi collettivi, le pratiche di come si secco e quando si secco, sono un'importante dimensione e questo è ciò che stiamo lavorando. Qualora si ritenesse che alcuni stili alimentari fossero non corretti e quindi anche poco sani, è possibile educare le persone a nuovi stili alimentari? In altre parole, si possono cambiare il modo in cui si mangia, il modo in cui ci si rapporta al cibo? Penso che questa è una questione molto importante e non deve essere preso per scopo che sia sufficiente per aiutare le persone in generale e questo è quello che è stato fatto per un lungo tempo e non funziona perché il paese del mondo che ha investito la più energia e l'argento per aiutare le persone a come mangiare una dieta migliore, è l'Università. E non lo so che i Stati Uniti sono un esempio in termini di obesità e di croniche che vogliamo seguire, quindi non sono successivi. Per fare una storia molto lunga, credo che ci siamo trovati dalla psicologia e dalla ricerca di tutte le cose di scienze sociale è una idea molto semplice. È probabilmente più facile per cambiare le persone, per cambiare l'environmento, per cambiare il mondo, che è di cambiare le persone, per parlare con tutti e tutti, su una base di uno per uno. Quindi, abbiamo bisogno di fare l'environmento, anche l'environmento non materiale, che è la cultura, le pratiche e le comportamenti, che ci sono felice, per cambiare il modo, per cambiare il modo, per cambiare il modo, che si chiama la cultura, per cambiare il modo, per cambiare il modo, i risultati di una deliberazione personale e individuale. Il fatto è che, se guardiamo in culture come l'Italia o la Francia, che sono molto vicini in questo rispetto, la ragazza che vogliamo fare la cena a 12.30 o 1 o'clock è che abbiamo problemi metabologici, abbiamo raggiunto il stato di hypoglycemia, questo è sicuramente vero, ma se ti chiede le persone, e se rispondono sinceramente, lo che ci diranno è che non lo so, è sempre stato fatto così, e questo è chiamato la cultura. Quindi non solo per le decisioni e le decisioni, ma anche per le pattern collettivi di comportamenti che sono programmati, scriptati dalla nostra cultura, e questo è quello che dobbiamo prendere in account. Grazie, professor Fischler. Grazie.